eccomi qua sono pronta carichiamo ho avuto un momento di incertezza perché non sapevo dove continuare ok c'è il caricamento proprio di mangi ma vediamo oggi dobbiamo picchiare della gente fano e ci sono credo tre tizi che mi danno soldoni o meglio materiali che poi posso vendere per soldoni e andrei qui tu primo da questo sì anche se non è proprio il top di qua però allora questi mi vogliono picchiare ok devo entrare sì no di qua qua non credo qua questa è la bisca niente io vorrei aver incastrata scusa se non è qui dove è che è sopra ah sì forse sul tetto tipo niente facciamo che salgo direttamente sul tetto che fastidio st'inquadratura così ravvicinata non si vede niente secondo me è sul tetto eccolo lì sono gli stessi di kirio non si vede niente non si vede niente Ok. Ok. Posta. Poi l'altro L'altro è qui Quindi mi conviene passare giù di qua Questi che vanno Incastrati contro il muro Ok, dovrebbe essere qui No, non qui E qua? E come arrivo? Dov'è lì? Ah, qua sopra Un altro ninja Ok Dovrebbero essere questi qui Perché vado a controllare effettivamente il terzo e l'ultimo capitolo Vabbè Veramente Oddio Mi ha cambiato sto gioco Ciao linda Come stai? Vabbè Puoi morire per piacere Puoi smetterla Modo C'è sonno? Ok Passo di qua Vabbè Vabbè ok allora questo è l'ultimo non era l'ultimo che cosa sto dicendo questo è l'ultimo io ho sempre l'allergia che non mi non mi dà tregua non ne posso più veramente io voglio che finisca giugno ha rotto ok aspetta sì giusto poi mangiamo e andiamo a fare non ci vuole mi soffio il nago no? tre secondi dopo al ristarnutisco mi devo rifiutare nago ho perduto agli occhi veramente non è sempre presente poverchino direi che dobbiamo mangiare qua ci interessa quello che c'è da dire secondo piano di Smile Burger da Sottiemburi dove è Smile Burger? Smile Burger Abysson, Don Quixote Poppo la Smile Burger è qua vediamo scusa secondo piano possiamo salire? ah manco mi sono mai accorta questo un milione di yen però un altro premione allora già ci siamo mangiamo sì ma lui non gli sta niente in pancia però non è tutto uguale non è tutto uguale facciamo una piccola deviazione da Ibis visto che dovrebbe essere qui esatto di fianco così ci vendiamo le plate un sacco di roba ok quindi quattro oro sei platino e sette argento mi fa male per un totale di tre milioni che fai ok possiamo proseguire con tranquillità direi uh 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 premione toughness perfect qui sotto entro a questo una roba ecco infatti ah non posso passare giustamente mi ho obbligato a andare di qui così devo combattere eh certo che domande appena curata andiamo a mangi ma cori guarda che togliamo il puntatore però togliamo il puntatore ah ci sono questi altri ah 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 Vai Vai Entriamo, entriamo Entriamo a vedere che succede Entriamo Sì, sta andando Non è così Non sia Non usare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dovresti stare meglio, invece no. Attenzione, salve se ho il papero, come va? Io vi giuro che sto cambio di inquadratura mi fa molto nervoso. Dovresti stare meglio. Dovresti stare meglio. Il pisolino. A quanto pare stiamo finendo, chi è che le ha sparato? Lo sapevo. Lo sapevo. Ovvio. Ovvio che era lui. Ve l'ho detto. Ve l'ho detto, 100% era lui. Quello dell'altra famiglia, che voleva eliminare... Esatto, gli ibici. Voleva eliminare gli Uemots. Ovvio. Per comandare lui. Quello spingeva, no? Per il profitto. Volpissima. Ma è troppo semplice. È troppo semplice. Questa è un progetto. Alla prossima 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 Alla prossima